Cari concittadini, dobbiamo essere attenti ma sereni, quindi niente panico. È un virus molto contagioso ma a bassa mortalità. Finora sono decedute solo persone affette da altre patologie. Gli esperti seguono la situazione con attenzione. Autorità sanitarie e Servizio Sanitario Nazionale sono intervenuti tempestivamente. L'elevato numero di contagiati identificato in Italia è figlio dei molti tamponi eseguiti, circa 3.000. Per questo si trovano positive persone che hanno già superato la malattia. In farmacia abbiamo subito diffuso le informazioni delle autorità sanitarie, sia tramite locandine che leaflet. Il contagio avviene tramite le goccioline esalate con il respiro o espulse con tosse starnuti da chi è infetto. In sintesi, questi comportamenti da seguire per prevenire il contagio. 1. Lavarsi le mani molto spesso, almeno per 20-30 secondi. 2. Evitare il contatto rafficinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 4. Coprire la bocca e il naso si starnutisce e utilizzare fazzolettini usa e getta. 5. Non prendere farmaci antivirali o antibiotici a meno che non siano prescritti dal medico. 6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 7. Chiedere in farmacia possibili altri disinfettanti. Le farmacie si stanno attrezzando per preparare prodotti disinfettanti in assenza dei prodotti industriali. 8. Usare le mascherine solo se si sospetta di essere malati o si assistono persone malate nella loro vita quotidiana. 9. Mascherine disinfettanti sono finite in molte zone, ma si sta cercando di ricostruire le scorte. 10. Gli animali della compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. I colleghi in farmacia stanno lavorando con altissimo senso di responsabilità anche nelle zone più a rischio. 10. A dispetto dell'impegno della stragrande maggioranza esiste chi ha messo in atto speculazioni e alcuni siti di e-commerce vendono mascherine disinfettanti a prezzi elevatissimi. Sono in corso indagini da parte della Guardia di Finanza che ha già preso i primi provvedimenti contro gli speculatori. Siamo pronti a costituirci parte civile in eventuali processi contro farmacisti infedeli. Esistono individui che nel caso delle persone sottomentite spoglie di operatori si presentano con l'intenzione di rubare. Attenzione alle truffe. In caso di dubbio di contagio non recarsi al pronto soccorso né andare al medico di base, ma telefonare al proprio medico o al numero di pubblica utilità 1.500. In alcune regioni sono stati attivati numeri verdi regionali. Invitiamo tutti a informare gli operatori sanitari nel caso in cui si abbiano avuto contatti con persone contagiate.